Quel progetto è pronto dal mese di giugno, 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 è l'uscita adesso, come mai? I soldi sono stati stanziati a giugno, 350 mila euro, è proprio l'assessore Martorana, l'assessore Martorana, l'assessore Martorana che quella cifra è stata impegnata ma non è stata spesa, forse gli è servita per qualcos'altro e adesso abbiamo i risultati, il colabrodo. Io lo so quando è stato costruito quel palazzetto, perché c'è, e so anche che è arrivato il momento di fare la cosiddetta manutenzione straordinaria, ma non state facendo, ma perché lei che si è costruita la casa un anno fa che gli fa il tetto, ma è giusto. Scusi, consigliera Federico, consigliera Federico non può, no, non c'è nessun, non c'è nessun fatto, consigliera Federico, non c'è nessun fatto personale, consigliera Federico, consigliera Federico, consigliera Federico, per favore, consigliera Federico si accomodi, consigliera Federico, consigliera Federico, consigliera Federico, per favore, passiamo al primo punto, all'ordine del giorno, approvazione, consigliera Marino, consigliera Marino, consigliera Marino, non c'è possibilità, abbiamo terminato la mezz'ora abbondante, è stato, dico, nel prossimo consiglio utile avrà modo di, d'accordo, va benissimo, consigliera Iacono, ma che sono, la parola? Consigliera Iacono? Presidente. Il microfono. Ho visto che mancano parecchi in aula, volevo capire se c'era la verifica del numero legale. Verifica numero legale, scusate, c'è una verifica del numero legale. Prego, Vice-Segretario. Sì, immediatamente. La porta? Assente. Migliore? Assente. Massari? Massari? Scusate se possiamo chiudere la porta, per favore. Tumino? Assente. Lo destro? Assente. Mirabella? Assente. Marino? Assente. Tringali? Presente. Chiavola? Assente. Chiavola? Assente. Ialacqua? Assente. Dasta? Iacono? Assente. Morando? Assente. Morando? Ho sentito? Morando? Assente. Scusate. Federico? Presente. Agosta? Scusate. Brugaletta? Disca? Scusate signori. Scusate. Siamo in verifica del numero legale, per favore. Per favore. Per favore. Per favore. Per favore. Stevanato? Spadola? Presente. Leggio? Presente. Antoci? Presente. Scusate. Fornaro? Scusate. Fornaro? Presente. Scusatemi che sono un po'... Liberatore? Nicita? Assente. Castro? Assente. Gulino? Presente. Porsenna? Presente. Sigona? Presente. La Terra? Presente. Marabita? Assente. Complimenti ai colleghi. Scusate. Allora, consigliera Federico, per favore. Consigliera Federico, spegne il microfono. Consigliera Federico, spegne il microfono. Consigliera Federico, per favore. Allora, scusate. Scusate. Consigliera Federico, si accomodi. Consigliera Federico, si accomodi. Allora, presenti? Presenti quindici. Assenti quindici. Per mancanza del numero legale, la seduta del Consiglio Comunale si rinvia domani, alla stessa ora di oggi e quindi alle ore dici otto. Grazie, buonasera.